Per rispondere a questa domanda forse varrebbe la pena spendere qualche parola su che cosa si intende per l'interpretazione della meccanica quantistica. L'interpretazione della meccanica quantistica consiste in una spiegazione da attribuire alle grandezze più controverse della meccanica quantistica stessa. Questi sono per esempio l'indeterminismo che sembra essere appunto intrinseco a questa teoria oppure la spiegazione, il significato da dare alla funzione d'onda oppure ancora al concetto di misura e della sua importanza all'interno della meccanica quantistica stessa. Esistono numerose possibili interpretazioni alternative della meccanica quantistica. Un esempio un po' abusato che è quello del gatto di Schrödinger. In che cosa consiste? Si tratta di un esperimento ideale nel quale un gatto viene rinchiuso in un contenitore isolato e sigillato con un'ampolla di veleno la cui apertura è comandata da un meccanismo pilotato dal decadimento di un isotopo radiativo. Questo decadimento è un fenomeno descritto da meccanica quantistica in termini non deterministici e quindi dopo un certo intervallo di tempo non siamo più in grado di dire se il gatto è vivo oppure morto. Un'interpretazione della meccanica quantistica possibile consiste nel considerare il gatto allo stesso tempo sia vivo sia morto in una sovrapposizione di questi due stati. Un'altra possibile interpretazione sarebbe quella di dire che nel momento in cui abbiamo allestito questo esperimento si sono aperte, si sono generate due linee temporali diverse nelle quali in una il gatto è vivo e nell'altra il gatto è morto. Questa tipo di interpretazione fra l'altro è molto apprezzata nei romanzi e nei film di fantascienza. Oppure c'è ancora un'interpretazione che possiamo chiamare minimalista che sostiene che non è neppure sensato porsi la domanda se il gatto è vivo o è morto prima di aprire la scatola e constatare direttamente. C'è da sottolineare che queste interpretazioni hanno in comune le stesse leggi della meccanica quantistica e quindi differenziano soltanto per l'interpretazione da dare ad alcuni aspetti connessi a queste leggi che comunque costituiscono patrimonio comune a ciascuna delle possibili interpretazioni. Da questo punto di vista quindi un'interpretazione è un fatto di preferenze personali spesso, quindi qualcosa che ha più che fare se vogliamo con la filosofia o la metafisica che con la fisica stessa. E a questo proposito forse vale la pena ricordare un congresso tenutosi nel 1999 nel quale ai partecipanti, tutti fisici teorici, è stato distribuito un questionario chiedendo loro in quale interpretazione della meccanica quantistica si riconoscesse. Ecco, la maggior parte dei fisici ha indicato che non si riconosceva in nessuna delle interpretazioni proposte. Grazie a tutti.